E' voler dimostrare che si può spendere meno ma migliorando e innovando i servizi. Fare uno sforzo per riportare sotto controllo il municipio, in un'asla, in questo momento il territorio quale prevalgono gli egoismi, i municipalismi, i localismi, beh, è per la propria regione. Grazie. Di cui noi siamo orgogliosi e questo, come abbiamo detto qualche giorno fa pubblicamente in altre situazioni. Questo è un cambio di passo della regione Lazio, è un cambio di passo della città di Roma, è un grande cambio di passo. Realizzare un nuovo approccio e una nuova modalità alla cura della salute. La sfida è sul territorio. La operazione è che facciamo sempre tutte le sere, attualmente alle 6 e mezzo.